Il gruppo politico Gioiose in Movimento rivendica i risultati raggiunti ed è determinato a proseguire il progetto politico che l'ha visto unito attorno ad Ignazio Spanò. E' in estrema sintesi il documento firmato dai consiglieri comunali della maggioranza, degli ex assessori e sostenitori della lista che si imposta nelle elezioni dell'11 giugno 2017. Un documento di prospettiva verso le prossime elezioni di primavera. In premessa è stata evidenziata la prematura e drammatica scomparsa del sindaco Ignazio Spanò che ha posto anticipatamente fino al mandato e che ha determinato l'insediamento del commissario straordinario. Nel giugno 2017 l'amministrazione guidata dal sindaco Spanò ottenne un consenso elettorale significativo. Vinse le elezioni con 2380 voti il 51 e 15 per cento distanziando il sindaco uscente Edoardo Spinella che si è fermato al 1484 e dal 31 e 89 per cento. Più lontano si è piazzato Teodoro Lamonica con 789 voti e il 16 e 96 per cento. Medesimo risultato è stato ottenuto dalle liste. Gioiosa in movimento ottenne 2422 voti, obiettivo Gioiosa di Spinella 1468 e noi per Gioiosa di Lamonica 698. Nel breve arco di tempo in cui è rimasta in carica l'amministrazione Spanò ha lavorato con grande determinazione e dedizione raggiungendo obiettivi e risultati importantissimi per la comunità gioiosana malgrado le innumerevoli difficoltà e carenza di risorse che affliggono gli enti locali aggravate nell'ultimo anno della pandemia. La coalizione nei prossimi giorni presenterà ai cittadini un resoconto dettagliato degli obiettivi raggiunti e dell'attività svolta dall'esecutivo e ufficializzerà a breve il proprio candidato a sindaco. In questi anni il nostro gruppo ha dimostrato grande coesione e maturità politica restando integro e compatto fino alla fine come mai accaduto a Gioiosa da quando esiste l'elezione diretta del sindaco. Si è detta pronta pertanto a condividere suggerimenti e proposte ad attivarsi sia per dare concreta attuazione agli obiettivi programmatici raggiunti sia per perseguirne nuovi.